Sto guardando una relazione in cui il rapporto servo padrone sia mutualmente accettato. Non puoi prescindere dal valore individuale. Vedi, ecco. Davide. Scena 12, 3, seconda, terza, quarta. Ma non puoi prescindere dal valore. Davide, ascolta. A te può anche stare bene instaurare una relazione in cui il rapporto servo padrone sia mutualmente accettato. No, vedi. Ciao.